Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori per il notiziario del Veneto Orientale. Andiamo a Caorle, imprenditore e carabiniere accusati di calunnia e danni di maresciallo e di un avvocato. Si è aperto davanti al Tribunale di Pordenone il processo che vede alla sbarra tra gli imputati il limibolarista Claudio Casella e il carabiniere Cristian Corvino per una calunnia che avrebbe attuato ai danni del comandante dei carabinieri di Caorle, Francesco Lambiase, del suo vice Antonio Longo e del candidato sindaco ed ex consigliere comunale Alessandro Borin. Secondo l'accusa, Casella, nel febbraio del 2014, avrebbe esporto querela nei confronti dei due carabinieri e di Borin, accusandoli, pur conoscendo la loro innocenza, di diffamazione e minaccia, perché in un colloquio dello stesso periodo questi ultimi lo avrebbero indicato quale responsabile delle presunte minacce subite dall'allora sindaco Luciano Striuli. Le indagini avviate successivamente alla denuncia dell'imprenditore avrebbero però smentito la ricostruzione di Casella. Un altro capo di imputazione, che riguarda Corvino, fa riferimento ad un episodio in cui il militare, un tempo in servizio a Caorle, avrebbe esporto denuncia nei confronti di Lambiase incolpandolo ingiustamente di aver fatto pressioni su una terza persona, affinché quest'ultima denunciasse Corvino in relazione ad una presunta lite avvenuta nel giugno del 2014 all'interno di un bar di cui Casella risulta comproprietario. Alla sbarra c'è infine un amico dell'imprenditore di origine bresciane, anche lui accusato di aver calunniato il maresciallo Lambiase. Sia quest'ultimo che il vice Longo e Borin si sono costituiti parti civili. All'udienza il PM Annita Sorti ha chiesto l'acquisizione di intercettazioni telefoniche, che comprendono alcune conversazioni tra gli imputati. Il giudice Giorgio Cozzarini ha riviato il processo ora il 29 settembre. E ci spostiamo adesso a San Donato di Piave per un tragico episodio accaduto alla SME. Un dipendente esce e si accascia morendo sul colpo. Aveva appena terminato il turno di lavoro e stava uscendo per raggiungere l'auto in parcheggio, quando si è sentito male ed è crollato a terra vicino all'ingresso della SME. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. È morto poco dopo all'ospedale Cittadino. La vittima della tragedia, che si è consumata dopo l'orario di chiusura del negozio di mobili ed elettrodomestici SME di Calvecchia, è Leopoldo Amadio. Aveva 45 anni, era dipendente da tempo proprio del noto negozio dove lavorava nel reparto Casalinghi. Sofferenti di problemi cardiaci da quando era molto giovane, l'altra sera purtroppo gli è risultato fatale. Amadio è stato stroncato da un attacco di cuore. Tutto è accaduto in un attimo. Erano passate da poco, le 19.30, e Leopoldo stava uscendo quando è stato visto crollare a terra. Colleghi clienti hanno visto e percepito la gravità di quanto è accaduto. hanno lanciato l'allarme sul posto e arrivata l'ambulanza con i sanitari, che hanno provato un primo intervento di rianimazione, poi proseguito durante tutto il tragitto fino all'ospedale Cittadino, dove però Amadio ha cessato di respirare. Leopoldo risiedeva con la mamma Giuliana Montagnère a Millepertiche di Musile, dove la famiglia Amadio è molto conosciuta. Il papà sante gestiva il panificio del paese e il figlio inizialmente gli dava una mano. Quindi con l'attività chiusa, il papà che è venuto a mancare ha trovato lavoro alla SME. Dai primi anni in paese gli vonevano davvero molto bene e il pensiero del vice governatore del Veneto, Forcolin, suo vicino di casa, perché era buono e sempre disponibile. Ricordo le gran partite a calcetto e le gran risate con il papà al quale era molto legato. Sono vicino alla famiglia in questo momento di forte dolore. Leopoldo lascia due sorelle, Sabrina e Chiara, da anni ormai anche impegnato attivamente alla protezione civile di San Donà. Dava sempre una mano e la sua disponibilità non mancava mai, ricorda il presidente Loris Smaniotto. La famiglia Amadio, numerosa e molto conosciuta, a mille pertiche, aveva subito un altro grave lutto nel 2012 quando perse la vita a Patrizia, prima cugina di Leopoldo, colpita anche lei. Un fortunato epilogo, per fortuna, quindi è quello accaduto a Ponte di Piave, viene schiacciato dal bancale e si salva. Vediamo il servizio. Infortuno sul lavoro a Ponte di Piave, Riccardo Artuso, 29 anni, figlio del titolare della Transpiave, è rimasto schiacciato da un bancale durante le operazioni di scarico di una camion. L'incidente è avvenuto nella sede della Dita, in via delle industrie, nella zona industriale, poco lontano dall'incrocio semaforico, lungo la regionale Postumia, all'altezza della località di Levada. La persona è rimasta ferita, fortunatamente, in modo non grave, e di sede a Salgareda. Erano da poco passate le 14.30, quando Artuso era impegnato con alcuni colleghi nelle operazioni di scarico di un mezzo pesante che trasportava bancali in legno. In quel momento, per cause che sono ancora in fase di accertamento, uno dei bancali si è sbilanciato, cadendo pesantemente su Riccardo, senza che quest'ultimo avesse il tempo di scansarsi per evitare il carico. Ai presenti la scena è apparsa subito drammatica. Vissuti attimi di concitazione dove si è temuto il peggio. I colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Nel giro di pochi minuti, sul posto, è giunta l'ambulanza con il personale del 118 per il primo soccorso al 29enne. Stabilizzato, il giovane è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso di Oderso. Durante le operazioni di soccorso, Artuso non ha mai perso conoscenza, facendo tirare un sospiro di sollievo ai presenti. Il 29enne si trova ricoverato dal nosocomio Pitergino per accertamenti. Arrivato con un codice di media gravità, non è fortunatamente in pericolo di vita. Oltre al personale del SUEM, in ditta, sono arrivati i carabinieri della stazione di Ponte di Piave per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente sul lavoro. Presente anche lo Spisal, che dovrà ricostruire i fatti. La Transpiave è una delle ditte più note del comune. Fondata nel 92, ha sede nell'area industriale di Ponte di Piave ed è specializzata nel settore degli autotrasporti e della logistica. L'attività si sviluppa nello stoccaggio e nel trasporto delle diverse tipologie di merce con servizi in Italia e in Europa. A Portogruaro segnaliamo nella giornata una raffica di incidenti in A4 con la viabilità in tilt. Mattinata caratterizzata da alcuni incidenti in autostrada, in direzione Venezia, sinistri che hanno costretto alla chiusura prima del tratto Portogruaro-Sastino e poi del tratto autostradale La Tisana-Sastino. Il primo incidente è accaduto alle 4 di mattina. Una bisarca si è incendiata tra Sastino e Portogruaro in direzione Trieste. Chiusa la corsia di marcia, il traffico è stato deviato su quella di sorpasso con una coda di un chilometro. L'incidente è stato risolto intorno alle 6.30 e dopo appena mezz'ora c'è stato un altro incidente più impattato per il traffico. Infatti alle 7.10 è successo sempre in A4 nel tratto Portogruaro-Sastino di Livenza, questa volta in direzione Venezia. Un tamponamento tra i due mezzi pesanti, si registra qui anche un ferito, ha costretto alla chiusura della corsia di marcia e all'attivazione del bypass attraverso l'autostrada A28 e il rientro del traffico sul passante di Mestre. Alle 7.45 la chiusura del tratto Portogruaro-Sastino ha reso l'obbligatorio all'uscita degli utenti a Portogruaro. In autostrada dalla Disana a Portogruaro la coda si è attestata sui 5 chilometri verso le 9. Infine il terzo incidente avvenuto alle 7.45 tra la Disana e Portogruaro in direzione Venezia ha coinvolto quattro mezzi pesanti, due dei quali hanno richiesto il soccorso meccanico. Alle 8.00 la concessionaria Autovie Venete ha imposto l'uscita obbligatoria al casello di la Disana. Intanto le cote si sono attestate intorno alle 9.30 sui 5 chilometri. E adesso ci spostiamo a Bibione, è imminente l'arrivo del Giro, che ricordo domani ci sarà la tappa noale con l'arrivo appunto a Bibione. Sono tutti in rosa per raccogliere il Giro. Vediamo il servizio. Il litorale di Bibione si sta vestendo con i colori del Giro d'Italia in arrivo della località balneare Veneta proprio in questo giovedì con la dodicesima tappa e il traguardo di Via Maia. Tante le iniziative organizzate per raccogliere i campioni del ciclismo e ottenere il loro arrivo in compagnia per quella che vuole essere una vera festa dello sport per tutti. Dopo 16 anni Bibione dunque è di nuovo pronta a tingersi di rosa dai fiori dell'aiuole per continuare con un tripudio di bandierine, ancora vetrine dedicate a cura della AS di calcio, un'enorme scritta sul campo di gioco. L'Avis invece che distribuirà palloncini, magliette per sensibilizzare le persone alla donazione del sangue, bambini protagonisti con maglietti e gadget in tinta, mentre tutto il pubblico è invitato ad ossare qualcosa di rosa che richiami la corsa ciclistica più famosa d'Italia. Mentre le strutture ricettive della località hanno da tempo promosso offerte turistiche per l'evento e i locali avranno menù speciali, l'acqua delle piscine da Curio Hotel per un giorno non sarà azzurra, sicuramente un bel colpo d'occhio che sarà immortalato dalle riprese aeree che potranno tra l'altro godere di una scritta realizzata con una particolare disposizione degli ombrelloni. In attesa dell'arrivo dei ciclisti, l'area verde di San Filippo diventerà il punto di riferimento per un maxi pranzo in compagnia. Un picnic tutto rosa naturalmente raccomandano gli organizzatori e per coloro che non riusciranno a esserci c'è l'aperitivo fissato nel pomeriggio a Marinella, nell'area verde, in attesa dell'arrivo. Proprio tutti daranno il proprio contributo alla grande festa, anche i mezzi dell'Asbo, la società che esistisce la raccolta dei rifiuti, cambiano l'ivrea e sfruttano l'evento sportivo per sensibilizzare alla raccolta differenziata. Non mancano la mostra fotografica, l'esposizione di opere dedicate al giro e organizzate da realtà associative locali. Come sempre Bibione, spiaggia per famiglie e per Antonomasia, beh, ci sarà un occhio di riguardo per bambini e ragazzi, per i quali è stata organizzata una irresistibile battaglia del giro a base di soffici colpi di cuscini di plastica in riva al mare. Tante, ma proprio tante, in iniziativa di privati e esercenti per abbellire e addobbare il territorio in attesa del giro, grazie anche al materiale messo a disposizione poi anche dal comune. E inoltre, proprio al terminal del Latvo, è già allestito, ci sono infatti le biciclette, dal triciclo alla bicicletta del nonno, proprio per ripercorrere una vita, insomma, fatta in bicicletta. Ed è proprio lì che arriverà il Giro d'Italia. E sempre a proposito del giro, in arrivo domani a Bibione, già operativa una task force di emergenza sanitaria. Vediamo il servizio. L'Ulse 10 sale sulla caravana Rosa con una task force. A Bibione l'Ulse 10 attiverà due motosoccorso per effettuare interventi immediati, anche in presenza di traffico o di eventuali ostacoli, posti lungo le strade. Due ambulanze con il relativo equipaggio presideranno il territorio interdetto alla viabilità sino alla conclusione di due giri del circuito locale e quindi dell'arrivo di tappa. Nel piazzale antistante, il punto di primo intervento di Bibione, verrà allestito il centro di coordinamento dei servizi di soccorso, con la presenza di una unità mobile del suo M118 per i collegamenti radio. Non mancherà la Croce Rossa italiana, presente con quattro ambulanze e unità a piedi lungo il circuito finale. A coordinare il tutto, saranno i responsabili del 118 per le maxi emergenze, con il dottor Nicola Bortoli, il direttore della UOC Emergenza Urgenza dell'US10 di Portuguaro Bibione, il dottor Franco La Terza. All'arrivo di tappa sarà presente anche il direttore generale da US10 Carlo Bramezza. Sono convinto che il Giro d'Italia a Bibione sarà un grande spettacolo per i turisti, per gli appassionati e un grande evento mediatico per la località, arriva Dito Bramezza. Tuttavia, in caso di emergenza, forte della vocazione turistica, come avviene d'estate, in presenza di grandi concentrazioni di persone, l'azienda US10, in collaborazione con il SUEM e la Croce Rossa, ha predisposto un'organizzazione straordinaria di mezzi e di persone in grado di intervenire in tutto il litorale. E per le tappe veneto, il governatore Zaia segue il Giro d'Italia. Come ormai tradizione, anche quest'anno il Presidente della Regione sarà presente a tutti gli appuntamenti del Giro d'Italia 2016 lungo le strade del Veneto e nelle città di arrivo e partenza delle diverse tappe. Si comincia oggi pomeriggio quando intorno alle 17 la carovana rosa arriverà ad Asolo, in provincia di Treviso, dopo essere partita questa mattina da Modena. Doppio appuntamento domani, il 19 maggio, per una tappa tutta veneta che porterà il Giro da Noale a Bibione. Tappa tutta nella pianeggiante provincia di Venezia dedicata, salvo sorprese, ai velocisti puri. Il Presidente della Regione darà il via annuale alle 12.45 e sarà poi all'arrivo a Bibione per partecipare alla premiazione del vincitore con arrivo previsto intorno alle ore 17. Dopo l'escursione in Friuli Venezia Giulia per la Palmanova Cividale di venerdì, il Giro d'Italia torna sabato 21 in Veneto a Farra dal Pago per il via del temutissimo e spettacolare Tappone Dolomitico che porterà i corridoi da Farra a Corvara attraverso i passo Pordoi, Sella, Gardena, Campolongo, Giau e Valparola superando quasi 5.000 metri di dislivello complessivi. La partenza da Farra presente il Presidente del Veneto è fissata per le ore 10.45. Il Giro domani passerà anche da Portogruaro con strade interdette al traffico per la Carovana rossa. Avvisiamo quindi tutti i telespettatori di fare attenzione a quelli che sono i divieni di circolazione. A partire infatti dall'ore 14 fino al transito di tutti i mezzi dell'organizzazione previsto verso le 16.30 la circolazione sarà completamente interdetta lungo la strada regionale 53 Postumia provenendo da Motta di Livenza e quindi nel territorio del Veneto nella frazione di Pradipozzo e su Maga nelle vie Treviso Cadorna Matteotti Bon Maninne e via Le Trieste e infine lungo tutta la strada statale 14 in direzione di Bibione al fine questo di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza. Non sarà possibile quindi per oltre due ore circolare con i mezzi sulla strada statale regionale 53 e la strada statale 14 che ricordiamo ancora sarà interamente chiusa alla circolazione. E andiamo adesso a San Donato di Piave presa di mira la casa delle associazioni. Ancora una volta e questa ormai è la settima i gnoti hanno forzato la porta d'ingresso della struttura di via Svezia che ospida varie associazioni di volontariato. Il fatto è successo la notte scorsa ieri mattina i volontari che sono andati ad aprire gli uffici hanno trovato tutto sotto sopra. Da un primo bilancio sarebbe stato portato via soltanto qualche sedia e da tempo che si attende l'installazione di videocamere di sorveglianza o di un sistema d'allarme. A Caorle arrivano fondi parliamo di 15 mila euro per tre parrocchie. Vediamo di cosa si tratta. Assegnati i contributi comunali per le opere di culto 15 mila euro per tre interventi richiesti dalle parrocchie di San Gaetano Brussa e Caorle. Con una delibera dei giorni scorsi il commissario Piera Bumma ha assegnato alle parrocchie del territorio i contributi previsti dalla legge regionale 44 del 1987 che prevede che i comuni debbano devolvere la quota dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi su chiese ed edifici annessi al culto. Tre le richieste accolte dal commissario alla parrocchia di San Gaetano sono stati così assegnati 6 mila euro che saranno impiegati nell'intervento di manutenzione straordinaria e di ampliamento della chiesa della frazione. Altri 5 mila euro sono stati destinati alla parrocchia di Brussa per la ristrutturazione della sala parrocchiale a uso comune. Da ultimo un contributo di 4 mila euro è stato assegnato alla parrocchia Santo Stefano del capoluogo. Questa somma contribuirà a finanziare un intervento di più ampia portata a un valore di circa 48 mila euro per il riordino della pavimentazione e il miglioramento del drenaggio delle acque in prossimità del Duomo. L'opera servirà ad evitare la formazione di infiltrazioni nelle pareti della cattedrale. Torniamo adesso a Porto Gruaro Bonavia è stato confermato presidente degli arbitri. Andrea Bonavia è stato rieletto presidente della sezione di Porto Gruaro per il quadrenno olimpico 2016-2020 negli arbitri appunto. Bonavia che ha recentemente ricevuto anche la beneverenza arbitrale ha ambiamente superato il quorum del 55% dei voti validi espressi necessari per poter essere riconfermato nell'incarico ed è il primo associato ad essere eletto presidente per tre mandati consecutivi. Ai lavori assembleari ha partecipato anche Andrea De Faveri componente del comitato regionale degli arbitri del Veneto. Negli otto anni di gestione di Bonavia la sezione di Porto Gruaro ha visto accrescere significativamente il numero dei propri associati passati da 90 a 120. In particolare nel corso della presente stagione sportiva nella sezione di Porto Gruaro sono confluiti anche alcuni arbitri della vicina sezione di Latisana soppressa dal comitato nazionale dell'associazione italiana arbitri. Nel corso del suo intervento Bonavia ha confermato di voler continuare a gestire la sezione secondo il modello partecipativo adottato negli ultimi anni. Infatti tra componenti con diritto di voto e referenti di settore i membri del consiglio direttivo superano attualmente la ventina. Inoltre ha annunciato che la sezione proseguirà con l'esperienza dei due poli di allenamento concepita allo scopo di venire incontro alle esigenze logistiche degli associati che risiedono nel territorio di giurisdizione. Il presidente riconfermato ora formerà la propria squadra nominando i membri del nuovo consiglio direttivo sezionale che lo affiancheranno nella conduzione della sezione nella prossima stagione sportiva che si apre il primo luglio. E ora la rassegna fotoreporte scarti dal territorio con Vinicio Scortegagna. Bene gentili telespettatori era questa l'ultima notizia per quanto riguarda il telegiornale del Veneto orientale vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.